Dopo il successo del Natale terramano, l'amministrazione comunale di Teramo, insieme ai commercianti, torna in piazza per celebrare il San Valentino, la festa dell'amore. Quattro giorni dedicati agli innamorati, con aperitivi e letture a tema, a partire dalle 19, e poi musica nel dopocena. Il tutto in Piazza Martiri, che si presenta alla città, con un allestimento scenico curato dagli architetti Marco e Mara Lucchese. Quattro giorni per innamorarsi a Teramo, ma come si farà? Sarà una manifestazione dedicata a San Valentino, quindi a tutti gli innamorati. Ci saranno diversi tipi di attività in Piazza Martiri, a partire dalle letture che saranno curate dall'Ectus. Sono tutti testi sull'amore, quindi invitiamo tutti alle 19.30 ogni giorno a venire in Piazza Martiri e ad ascoltare delle opere d'arte proprio sul tema dell'amore. E poi giovedì e domenica ci saranno anche della musica in Piazza Martiri, proprio su questo tappeto rosso che stiamo allestendo per l'occasione. Giovedì sera, il giorno di San Valentino, con i Fazzi Dice dalle 22.00. e invece il sabato sera già dalle 21.30 con il Mixed Factor in Love, che praticamente consiste in una serie di canzoni a tema sull'amore che verranno cantate da artisti teramani e che allieteranno la serata. Quindi dopo il successo del Natale teramano c'è il San Valentino teramano? C'è il San Valentino teramano, chiaramente è una festa più limitata anche nel tempo, però volevamo comunque continuare con questo magnifico lavoro che stiamo facendo con i commercianti e con tutti questi attori che hanno partecipato al Natale teramano, proprio perché è importante continuare a dare un'immagine della nostra città all'esterno positiva, aperta e piena di iniziative.